Bene, adesso illustriamo la pagina notifiche, modalità non esperto, questa è come vediamo la pagina notifiche, quindi la lista delle notifiche che abbiamo ricevuto nel tempo, in cima, in alto, troviamo sempre quella più recente, via a decrescere nel tempo. Bene, allora, vediamo un attimino i tasti che compaiono in modalità non esperto, abbiamo il ricarica lista, da utilizzarsi solo quando riteniamo che di per sé non è necessario, ma riteniamo che si sia spasato per qualche motivo, il self test, lettore di notifiche free, da utilizzare per verificare che il sistema sta funzionando, tutto è sufficiente, eccetera, eccetera, cancella lista, cancella lista, si suggerisce di non farlo perché la lista è quella che viene utilizzata per riconoscere eventuali messaggi ripetuti nel tempo, quindi che Android ci ripropone gli stessi messaggi continuativamente e alcune app in maniera molto fastidiosa, cambiandone i contenuti, facendoli quindi credere diversi, come ad esempio Whatsapp. Bene, allora, facciamo vedere una cosa abbastanza importante, nel caso che volessimo riascoltare un messaggio, basta cliccarci sopra. Messaggio Whatsapp da Patrizia, ciao tre. Benissimo, ecco, un'altra serie di funzionalità vengono fuori se passiamo in modalità esperto, ecco qua. Beh, questo qui non curiamoci più di tanto, la lascio solo per gli utenti particolarmente raffinati che vogliono anche comprendere cosa sta accadendo, eccetera, eccetera, magari poi farò una sezione dedicata per gli esperti al riguardo, vediamo invece le funzionalità che sono nate, nuove, la Protect, qui possiamo impostare una password, dobbiamo poi assolutamente ricordarci, quando la impostiamo e premiamo Imposta, non riusciremo più a rientrare in questa pagina quando ora ne uscissimo, se non impostiamo questa password. Per eliminare questa funzionalità è sufficiente poi cancellare la password da qui dentro e fare di nuovo Imposta, a questo punto potremo di nuovo entrarci liberamente. Un'altra funzionalità interessante è la Pass All, praticamente in questo modo, senza bisogno di stare attivare tutte le app, eccetera, eccetera, in questo caso qualsiasi notifica che arrivi da un'app nel frattempo viene lasciata passare, per esempio non sappiamo qual è l'app che viene utilizzata dal nostro smartphone per mandarci di SMS, attiviamo per un attimo Pass All e ci inviamo un SMS e lui ci dirà qual è l'app e quindi potremo andarla a individuare facilmente a inserirla nella lista delle applicazioni. Benissimo, ecco, quest'ultimo tastino è carino, nel senso che è il tasto di pausa, se io lo attivo, praticamente da questo momento in poi, se ricevo le notifiche, le simuliamo con il self test, ecco, vedete, non me le sta recitando perché il sistema è in pausa, quindi magari abbiamo da fare qualcosina di veloce, ci dobbiamo allontanare abbastanza in cui abbiamo il nostro telefono, mettiamo in pausa, ce ne andiamo per qualche minuto, quando torniamo, se ci sono arrivate le notifiche, non le abbiamo perse, ci basterà riattivare di nuovo le persone ed ecco che ci vengono detti a metafaglia, letto l'altro, lettore di notifiche free, lettore di notifiche free, lettore di notifiche free, ok.